Apre la mente, una voce ti sta chiamando, ascolta presto, ti prego aiutami. Corriamo amici, venite, non vi scoraggiate, è il momento di lottare, uniti per il mondo. Insieme nelle avversità, in questa nuova realtà, questa attesa vedrai presto finirà. In un giorno migliore, il mondo poi si sveglierà, e ci sarai. Raggi di luce in cielo brilleranno, la forza con il tuo coraggio, alla vittoria porteranno. Corri fuori a mantenere, invincibile sei, sta nel cuore, la tua forza è mai finire potrà. È il momento, non tirarti indietro e vedrai, ce la farà. Non sei solo in questa notte, guarda intorno a te, fatti forza e scopri dentro la ragione che c'è. Corri in porte, mostra il tuo coraggio e se vuoi, resta sempre qui con noi. Spada tecnica dei Digimon Shoutmon Il suo attacco consiste in un grido assordante che gli parte dal profondo, chiamato Essenza di Rompente. Voglio provarci anch'io! Ho fame, voglio mangiare! È questo che grida il tuo profondo? Sì. Ciao!